I nostri sponsor, diciamo così, il professor Formisano con prima idea, con lo struito prima idea della Banca Popolare per Cassinati, ci conosce piuttosto bene e sono stati appunto i primi loro a credere in noi e a darci fiducia sullo sviluppo di questa idea. Poi abbiamo partecipato ad una collega della Regione Lazio, nel parere sul BANIS World del 2007-2013 abbiamo preso un costitivo contributo a fondo per il tutto che ci ha consentito proprio di far nascere l'azienda e far nascere i nostri prodotti e in ultimo con la Camera di Commercio di Prosimone abbiamo partecipato ad un bando annuale che è il bando sistematicamente che è il bando annuale, che è il bando sistematicamente, che è il bando avida a portare il bando dell'azienda, lo stesso abbiamo partecipato in Pinto, siamo fortunati, non lo so, siamo più o meno bravi, un pochino sì, però quello che conta è che adesso con questi capitali noi cerchiamo di fare quello che ci siamo posti, noi cerchiamo di perseguire la nostra visione e soprattutto di trovare strumenti di più ampio respiro, come rivolgersi agli strumenti della comunità europea, intraprendere azioni di crowdfunding, rivolgersi a fondi di investimento professionale, quindi tutto questo è quello che serve per far partire una start up, ho detto in maniera molto breve, passate, vi passo la parola a me, grazie applausi 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 per insumere appunto nella nostra start up il finanziamento è base, perché comunque hai bisogno di un'idea, hai bisogno appunto dei soldi per metterla, per farla accadere, questo ci porta al mondo delle bando, è molto fondamentale, oltre come strumento per poter sostenere un'idea, a maggior ragione quando sono del territorio, perché hanno una maggiore conoscenza di dinamiche del posto, e qui va per noi, il nostro Vincenzo Polotti Buonasera a tutti, io ho filmato due minuti, ma per essermi cinque minuti voglio presentarvi ciò che in qualche modo non avrebbe nemmeno bisogno di presentazione perché Alessia ha già fatto la pubblicità, ma di solito quando si partecipa a questi eventi, ognuno viene a dire qualcosa che fa, cioè come banca regolare del Cassinate, oggi veniamo a divulgare qualcosa che abbiamo già fatto e funziona ormai da tempo, cioè che cosa abbiamo cercato di mettere insieme, intanto sfatare quelli che sono i nuovi comuni di figliare banche, che le banche non danno i soldi, che non finanziano le idee, che danno i soldi a chi non ne ha bisogno, è purtroppo molto spesso abbiamo preso queste tre vengole comuni e abbiamo detto che ha un segnale che probabilmente si muove di cambiare, si può fare qualcosa di diverso, perciò è mettere a disposizione di giovani che vogliono aiutare imprenditori delle somme, finanziare l'idea, dati senza interessi, senza raggi e ragioni, senza garanzie, in modo tale che finanziamo l'idea. Per essere credibili abbiamo avuto questa, secondo me, l'idea innovativa di questo prodotto che si chiama l'idea, abbiamo preso di una commissione per valutare i progetti, progetti di funzione che attingono in un fondo di un milio di euro, che da quest'anno è radottiato di un milio di euro, quindi vedo tanti giovani, sia vedeveni di marca popolare, che noi ve le esaminiamo. Ma a proposito di chi le esamina, per essere credibili, abbiamo costruito una commissione che parlasse progetti, diversa dalla commissione bancaria che di solito parla dei progetti e dei bilanci per gli affidamenti e le concessioni del credito, proprio per uscire dalla logica bancaria del quantitativo, del bilancio, della garanzia. Quindi abbiamo costruito una commissione formata da due accademici, ovviamente non è sottoscritto, nella fattispecie di due istituzionali, il Rettore e il Direttore del Dipartimento, e i due rappresentanti dei giovani imprenditori, i rappresentanti degli ingiusti e giovani, oggi abbiamo qui il neopresidente di Giro Sauriti e il presidente dei giovani di Chetellaccio. Quindi quattro componenti diversi dal mondo bancario, che valutando i progetti in maniera effettivamente creativa, vedendo l'idea e interagendo con i ragazzi, hanno selezionato e hanno finanziato, dato e ok al finanziamento di questi progetti. Qual è il risultato dei 5 minuti in cui andiamo firmati? Il risultato è stato che ad oggi abbiamo finanziato tutti i progetti. La cosa più bella da punto di vista bancario è che sono tutti regola con il piano di ammortamento. Quindi qui emerge sempre l'animus della patica. Quindi stanno residendo i soldi senza interesse a 10 anni 50 mila euro. Ma la cosa invece più importante è che queste aziende stanno sviluppando, hanno creato occupazione, hanno creato la possibilità dei giovani di incominciare a fare imprese. Perché noi siamo qui in una facoltà di economia dove io ho pregunto e insegno materie aziendali e quello che noi dobbiamo capire è che l'unico sbocco nostro non è solamente quello di essere dipendenti di un'azienda, ma può essere anche quella di diventare noi stessi imprenditori e metciare la formazione e anche le risorse finanziarie che possono rendere un'idea fattibile secondo me quanto di più bello si possa fare. In questo c'è una piccola coincidenza fortunata e cioè il fatto che io sia da un lato professore che sia anche immediatamente che mi serve di una banca rotale. Quindi questo mi consente di giocare questo doppio loro, questa volta a differenza di altri conflitti di interesse per il bene invece di un bene, penso, abbia un suo fondamento e anche un successo per i giovani come la nostra Alessia. Io ho chiuso qui, mandiamo... Dove sono i ragazzi? Eccoci qua. A proposito di startup, è un'altra startup che vogliamo aiutare, che sono i ragazzi come mi chiamano a me, e io leggo, benissimo. Sono brevi, si hanno fatto il tribunale a tutto bello, qui non ci sono nel tribunale, quindi siete a posto e c'è il tribunale che pubblicizza la nostra adegra. Prego? E certo, dai ragazzi, manchi di me. Lo insegniamo e lo praticiamo. Fidale, che bello! Dove si fa quei libani di assedetto? Andiamo per lei, no? Quei sotterranei non l'ho sporato di cinque minuti. Poi, nel frattempo, faccio un po' basso, vediamo il nuovo. Per le informazioni, ovviamente abbiamo i nostri desk, abbiamo un sito, potete raccogliere le informazioni o venire ai nostri sportelli in banca. Siamo a disposizione anche perché il bando è a sportello, quindi non c'è una scadenza. presentate le domande quando vuoi. istituzione il simone per noi. In questo modo, anche poi partecipare le domande quando vuote più per l'interno per l'interno per l'interno per lutto. Allora, abbiamo visto come delle imprese istituzionali che possono essere le banche si sono affacciate al mondo della startup e capendo nelle strutture di novità che garantiscono degli strumenti disegnati a posta e il credito appunto dell'autorità di Primedia è specialmente disegnato per attività nuove che appunto non hanno uno stop ma un altro modello che personalmente condivido il suo successo è il ProFunding che personalmente l'azienda per esempio utilizza per validare i prodotti sulla piattaforma che è Kickstarter in questo caso la dottoressa da me e spiega la pubblicità grazie Allora, io sono Ida Medio sono laureata presso l'Università di Cassino in Scienze della Comunicazione e continuo a studiare l'Università di Cassino facendo un master in management dell'impresa sociale attualmente diciamo che lavoro con l'Università di Cassino e quindi con l'impresa di acqua perché la mia idea di Slackhouse è stata inserita in questo programma Allora, che cos'è Social Landing? Social Landing Italia.net è una piattaforma di grant funding basata sul prestito sociale quindi ci occupiamo di lending grant funding che offre un'opportunità a giovani in questo caso MIT quindi parliamo di giovani inseriti in un ambito che viene chiamato ad esclusione sociale quasi esclusione sociale e giovani immigrati di seconda generazione quindi gli offre l'opportunità di ricevere delle chiamiamoli dei micro prestiti direttamente da individui la logica è un individuo che presta a un altro individuo il lending grant fa parte della famiglia del grant funding e della quarta tipologia quindi prestare tramite una piattaforma web micro somme per poter realizzare un qualcosa nel nostro caso dare l'opportunità a questi giovani di creare mettere su che ne so delle piccole idee di impresa incentivare la micro imprenditorialità l'auto impiego qual è il problema? il problema che noi abbiamo notato cioè che ho studiato che mi ha sfido che hanno un'idea o a portare avanti un'idea del genere è quello che c'è difficoltà di accesso al credito come l'hanno detto i relatori prima di me cioè andare in banca per un giovane e chiedere un piccolo prestito è impossibile non ve lo danno soprattutto quindi se si è giovani senza garanzie senza risparmio soprattutto se si è giovani immigrati che cioè viene visto un pochino con un occhio di diffidenza dalle banche quindi che cosa abbiamo fatto? abbiamo studiato quelle che sono i meccanismi di lending che ci sono all'estero ho cercato di replicarlo esattamente qui in Italia diciamo che attualmente abbiamo notato che l'idea funziona perché abbiamo ragionato in una logica di no profit social lending in questo caso non social lending in Italia che è la piattaforma è un'associazione no profit e diciamo la giurisprudenza italiana ci dice che ragionando come nell'ottica del no profit quindi come associazione che non fa intermediazione finanziaria quindi che non prende commissioni né da chi presta né da chi diciamo cioè nessuno dei attori coinvolti quindi non fa girare denaro può tramite un meccanismo di social network quindi incontro tra la domanda e l'offerta può dar vita a un meccanismo di questo genere a un discorso di trattare di questo genere a differenza delle due realtà di lending presenti in Italia che comunque anche se rientrano nella categoria del crowdfunding sul prestito solitare sono degli istituti di pagamento cioè sono delle realtà bancarie in definitiva allora attualmente noi siamo un'associazione non profit riconosciuta cioè non riconosciuta ma operante vedevo questo stiamo ragionando in termini dovevamo partire sul territorio in definitiva ci siamo allargati un pochino al territorio nazionale io stesso ho provato che cos'è il crowdfunding partecipando a una call di Telecom Italia siamo andati in gol recentemente una settimana fa abbiamo fatto questa campagna di raccolta fondi Telecom ha investito su di noi abbiamo avuto i primi finanziamenti superando l'obiettivo abbiamo raggiunto il 133% di raccolta quindi crediamo molto credo moltissimo nel meccanismo del crowdfunding siamo stati invitati presenteremo come rappresentanti dell'ending l'associazione e la piattaforma Bologna al festival italiano del crowdfunding e diciamo che l'idea da l'idea che era è incominciato ad avere una struttura una base ad essere una start up che punta nel verissimo tempo ad essere una start up a vocazione sociale abbiamo tutti i requisiti colgo l'occasione per ringraziare l'università di Cassino in particolare nella firma del professor Rossino e del professor Ferrante che ci stanno sostenendo moltissimo social landing era un'idea di tesi è diventata una start up sociale non posso permettere di dirlo e quindi crederci se ben studiati meccanismi alternativi quelli che noi conosciamo funzionano abbiamo visto come dal punto di vista dei finanziamenti siamo passati ad un istituto dei fondi europei le banche il crowdfunding di una nuova dimensione del finanziamento adesso cominciamo a parlare vediamo volta del finanziamento qui c'è a parlare di un'azienda di come questa azienda può sfidare con l'utilizzo delle tecnologie di mercato globale e quindi qui da parlare di Tiziano Stigola che è il fondatore di Aracca che è qua vicino con il loro stand che conoscerà anche personalmente Tiziano dove ci parlerà appunto come nella sua azienda abbia affrontato già al mercato che può essere globale ma è una tecnologia forte come quella del SIS il mercato globale è un po' il nostro mercato è un po' il nostro mercato è un po' tantissimo voglio raccontarvi un attimo rispetto a un punto rispetto un po' legame che è quello che può essere che è anche il presidente di Tiziano noi lasciamo una start up circa due anni e mezzo fa per quanto riguarda l'idea c'è la RACA del FOT la stampa 3D che è inozione in genere l'idea è portare la stampa 3D su un territorio per cui la nostra forte vocazione meccanica quindi non ha fatto via non appigianale ma industriale per cercare di innovare quello che è il territorio quindi già vediamo a base di clienti con i propri prodotti noi dobbiamo semplicemente andare non semplicemente riuscire a catturare queste aziende e portarle nella parte di funzione industriale questo poi era il nostro focus e il nostro obiettivo ovviamente va a proponare già tutto il mondo con il nostro prodotto questo obbiettivo dell'obiettivo ma però come focus iniziale abbiamo voluto andare in Roma a queste aziende territoriali per i goghi per i cittadini cos'è Paladina l'acqua che sono due che sono cittadini per quanto riguarda quello che c'è adesso noi abbiamo praticamente fallito il primo contro la prima avventura come è stata la nostra azienda è stata rifondata perché il team era sbagliato abbiamo sbagliato il team e se da una parte c'è persone c'è una persona che lavorava da una parte c'è una persona che non faceva niente questo è qualcosa che cambia molto spesso all'interno di questa tavola una stata di 10 arriva 9 su 10 falliscono quelle che falliscono se ci riprovano ci riescono questa è una cosa importante perché il fallimento all'inizio effettivamente da un punto di questa tavola dal fallimento si è imparato noi abbiamo imparato abbiamo incontrato e abbiamo inserito alla nostra azienda quindi siamo andati a costruire l'azienda partendo da quello che erano le idee e le grandi nostre capacità della nostra conoscenza da quello che abbiamo realizzato e abbiamo inserito un nuovo socio che ha portato in parte i cantali ma soprattutto ha portato il suo know-how per punto di vista dell'organizzazione aziendale un'imprenditore di circa 25 anni un'imprenditore classico che lavora anche su web a pratforme su web che fanno sbagliati milioni di euro l'anno anche con un classico quindi lui ha preso la nostra buona idea è diventato partecipi ma non ha messo su questo software che è andato come un protagonista in def in tutto il suo team sia dal punto di vista amministrativo anche dal punto di vista della comunicazione della vendita quindi le sue capacità di portare all'interno del nostro team e siamo tra piccolette rimatti in azienda lavoro di portare a nuovo quindi i nostri prodotti e il nuovo diventare i nostri prodotti nel senso il problema che è la stampa diretta è qualcosa che tutti quanti dicono in futuro la stampa diretta è presente non è in futuro ma che non ci ha certo il problema è farlo capire e farlo incontrare la gente per educare e formare un territorio per quello nostro quindi a volte la vocazione sì ok ci sono tantissime bellissime realtà però è la realtà dei fatti che troviamo anche l'ignoranza da concedere ma anche gli stessi imprenditori e nella stessa gente quindi la cosa importante per noi è andare a formare andare a innovare le scuole e il sistema formativo utilizzando e andando a inserirci all'interno delle scuole con i nostri modelli tra virgolette innovati di studio siamo andando in tutte le scuole in tutte le scuole della provincia per quest'anno e l'anno prossimo ce la diremo per la provincia che ho detto con la più facilità creando un rapporto direttamente con la scuola la scuola quando le consigliano a fare il workshop perché partiamo con i bambini dalla parte elementare quindi i bambini cominciano a capire che cosa è l'ecologia stanno facendo dei corsi di insegnamento quindi questi bambini che interessamente avranno una capacità non di insegnarsi di realizzare il giocato ma di realizzare cose che io sono soli sono fanno di vedere e con i studi tecnici industriali stiamo cercando di addirittura di far realizzare a loro i macchinari stessi di far realizzare a loro i macchinari stessi quindi i ragazzi stiamo produttivisti della pubblica 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 quindi i ragazzi fanno esperienza assemblando le costruzioni noi abbiamo i ragazzi che si formano paghiamo a scuola la scuola tra i benefici avendo più soldi noi non abbiamo problemi è un grosso problema che ha avuto anche adesso credo anche tutti quanti imprenditori di altri nuovi software quindi devono realizzare le cose dovete avere limitanti produttivi a norma nel momento in cui avete spese per la prima fabbrica per l'azienda per essere tutto normal sono delle cose abbastanza elevate per affrontare cose del genere noi inizialmente stiamo lavorando in questo piccolo laboratorio ma la possibilità di distribuire la produzione sul territorio c'è la possibilità di abbassare da un momento i costi ma soprattutto di creare un prodotto e quando il cliente lo va a comprare a piccolo esperienziale il cliente compra un prodotto realizzato dalla scuola finanzia le scuola il cliente territoriale quando acquista una nostra stampante sta aiutando l'istruzione sta rinnovando il nostro territorio quindi il mercato che noi non c'è ce lo siamo andati a realizzare e stiamo cercando di nuovare la modalità di vendita creare un'esperienza per il cliente che si sia doppiamente soddisfatto oltre nell'acquisto del prodotto anche nel contributo sociale che dà al territorio il consiglio che vi do io è focalizzato sull'idea ma soprattutto sul team con più realizzata dell'idea perché i capitali si trovano abbiamo visto che sono strumenti elettorali capitali l'importanza del team è una cosa fondamentale soltanto una scuola e non con l'idea soltanto una scuola riesce a realizzare la propria la scuola non c'è nessuno ma e adesso si considera un altro ingrediente questa è la ricetta per fare l'impresa se per l'idea capitale delle persone quindi il capitale umano praticamente l'importanza di questo elemento è sempre più fondamentale che si passa appunto dalla tecnologia della conoscenza dalle comuni della conoscenza perché a volte l'università viene un po' distrattato si parlava stamattina stava spostando in streaming un po' distrattato da Roma dicevamo c'è un pezzo di carta tanta gente diceva c'è un pezzo di carta che è importante l'università ti dà la struttura quella è la cosa fondamentale a volte viene pensato io faccio questo da sola c'è un pezzo qua perché non c'è la parola tanta gente arriva a questa soluzione perché è un problema perché l'università è una struttura di grado di volo di pensare perché tu comunque proietti in futuro seguendo un percorso un obiettivo incerto specialmente esatto come detto che il nostro sistema spaziale ti porta alla laurea e a te di te ma tu crei la proiezione al mondo e segui un progetto quando c'è un prodotto e io sono la mia che sono nell'app in creazione non sono una startup puramente di software tu pensi a due anni almeno perché io non ho anche a creare un prodotto per fare stampi per strutturare tutto quanto per la rete di mail tu devi già pensare adesso a cosa sarà tra due anni sono da cassa naturalmente alcune aziende non hanno appunto dei concetti promettono di ridurre tecniche da tecnologie di riprendi però l'università con la struttura per poter testare tu lo devi imparare e per poter creare quella dedizione che è fondamentale in realtà come sto se tu pensi a no la maggior parte quando gli sono la mia prima idea è di avere un senso finanziamenti e non non è sempre capita e capisci di questo non funziona se ho passato all'affigliamento all'agentistica per camartini più alti spedizione ai costi più bassi più standardizzata è un'ecedenza del paese italiano comunque ed è se una donna ha una borsa e cinque vestiti vuol dire che spendere più una borsa la stessa e quindi mette una via reto non lo metti così spesso e quindi acquisto in questo lo voglio compro una borsa e ci penso che rimane un reto online e insetti da un certo di comunque andiamo adesso partita la slide e passiamo al posto di verra che è il fondatore di Transwind che ci parlerà di un'altra Buongiorno a tutti sono Paolo di Perna sono il fondatore di Transwind noi siamo un'azienda che opera sostanzialmente nel campo energetico soprattutto dell'elettronica e di informazioni applicate quindi diciamo un tema abbastanza attuale la nostra esperienza io mi sono in ingegneria quindi questa è un'esperienza personale quando ci sono l'alto di ricerca è un'esperienza di ricerca che è accademia è un'esperienza di attività varie esperienze insieme ad altri amici con i quali non ci siamo incontrati e nel diciamo riscontarci delle sfide che potevano rappresentare le nostre professioni in qualche modo erano in quel momento separati e quindi nello stesso ambito abbiamo riscontrato che esistevano dei problemi nell'ambito quindi energetico e di come venivano attualmente gestiti determinati sia servizi che prodotti abbiamo notato che questi problemi erano e confrontandoci abbiamo detto questi problemi in effetti ci sono li abbiamo tutti perché non troviamo insieme una soluzione per fare in modo che questi problemi erano superabili quindi a noi è una start-up che deriva da un'esperienza diciamo regressa e che quindi ha trovato una soluzione un po' cosa più concreva perché vorrei aggiungere alcuni diciamo elementi a quelli che sono stati detti dagli altri colleghi inizi allora innanzitutto il senso di fare imprese in Italia il senso di fare imprese in Italia è effettivamente una domanda diciamo diciamo da un milione di cose e forse anche di 10 per tutta una serie di questioni con le quali ho anche per motivi di tempo chiaramente ma sicuramente il problema dell'accesso al prendo che c'è soprattutto per le imprese diciamo non solo giovani ma fatte da persone giovani noi nella nostra prima diciamo parte nella quale come tutte le imprese abbiamo avuto accesso al credito abbiamo riscontrato una difficoltà media di accesso al credito però non eravamo i ragazzi che partivano diciamo da zero quindi abbiamo avuto un rapporto anche un istituto di credito che proprio questo problema esiste esiste tutto il grosso problema fiscale burocratico allora il discorso qual era? rimarcare bene una differenza oggi con le termine start up in generale ma questo vale comunque si dica un'impresa che fa in realtà esiste poi in questo segmento tutto un tipo di imprese orientate verso l'innovazione che sono le start up innovative quindi questo diciamo aggettivo che non è stato secondo me ben diciamo valorizzato allora esiste la possibilità di fare imprese classiche che ha delle difficoltà da un'occasione e da sicuramente delle persone e forse da anche però delle certezze esiste invece la possibilità di fare nuove imprese in ambito economico e ci sono tutta una serie di caratteristiche neanche tanto stringenti ma sostanzialmente giuste che permettono di fare invece delle start up economiche ossia delle start up che hanno delle caratteristiche nelle persone che hanno soprattutto una vocazione orientata verso l'innovazione quindi non è quello che è facendo il nostro tempo ma è proprio quello di fare il start up economico però la buona indizia è questa che per scelte sicuramente politiche dettate forse non da una particolare diciamo visione illuminata ma da una concretezza oggi chiunque va a vedere i dati economici molti sono diciamo qui segnate vede per esempio l'aumento della produttività che è praticamente correlato linealmente con il grande innovazione delle imprese come dato un marco economico riferito alle azioni i discorsi legati alla competitività e al valore aggiunto delle imprese non ha contribuito tutte queste belle cose più altre hanno portato se che il deciso ha però creato degli strumenti che permettono di fare le imprese in maniera diversa da fare un'impresa classica ok tu non avrai le certezze dell'impresa classica perché normalmente l'impresa innovativa è caratterizzata da un fischio maggiore in tutti i sensi però ti do tutta una serie di caratteristiche e ti assicuro che queste caratteristiche in parte dal punto di vista fiscale molto dal punto di vista durocratico specialmente in cui diretti che permettono oggi di poter fare un'impresa in una maniera molto giusta più che quell'impresa sia innovativa e quindi orientare verso l'innovazione nel momento in cui uno ha questa vocazione è una cosa che oggi in Italia non è diverso da altri paesi sicuramente nel banco diciamo possono permanere i problemi legati alle infrastrutture legati ad altri tipi di discorso non è il discorso qual è? nel momento in cui io oggi sentivo anche all'aula di un'altra nel momento in cui uno decide di fare un discorso legato all'informazione automaticamente sta in una dimensione di mercato globale quindi non esiste cassino non esiste sicura non c'è si apre un mercato globale e quindi è vero che ci troviamo ad operare in questo territorio ma in realtà ci troviamo ad operare in tutto il mondo quindi noi fondavamo questa caratteristica e abbiamo avuto sicuramente la propria ma in parte sicuramente anche la bravura di essere immediatamente finanziati attraverso degli strumenti che mette a disposizione l'Unione Europea in quel caso insieme a la regione quindi sappiate che nel Lazio sicuramente i campani in provenienza del territorio che ha diciamo un quadrato del salente e l'Ambito però è possibile ottenere dei fondi dati dalle regioni che però in realtà sono finanziati con troverte e vi coprono una buona parte dei fondi cioè vi permettono veramente di fare lo startup perché lo startup significa le persone che ci lavorano le attrezzature cioè lo startup non è una parola buona è una parola che può significare soldi in questo ambito noi abbiamo quindi trovato una soluzione quindi anche noi facciamo dei servizi ma abbiamo fatto il prodotto e grazie a questo finanziamento in cui avevamo l'idea di fare un prodotto in realtà è uscito nel lavorare sono usciti diciamo tre prodotti diversi e quindi ci siamo trovati e ci mettoni e quindi da fare quella che era poteva essere un'esperienza transitoria o aggiunta rispetto alle nostre disposizioni di fatto a lavorare praticamente quasi adesso lavoriamo con l'azienda in questo ambito è molto importante che la mentalità di queste sfide sia una mentalità di un uomo perché in questo ambito voi proverete il mercato noi per esempio guardate nell'ultimo anno se non è che abbiamo avuto grossi diciamo abbiamo sicuramente fatto delle attività di malattie ma non è che abbiamo avuto grossi questi sono i contatti che siccome il numero di mail telefonale c'è a seconda più e più più c'è l'intensità che abbiamo avuto diciamo per legare la nostra prodotta ai nostri servizi se vedete la nostra chiediamo insomma che è un territorio piuttosto problematico ci siamo provati di pronunziare a vedere questa dimensione quindi io rinengo veramente diciamo dobbiamo essere nel rapido soprattutto il discorso di fare il problema c'è lina qualsiasi discorso legato alla territorialità ossia l'impresa nasce nel territorio e lo so cresce però la sfida arriverò e oggi sentivo ok la cura di cervelli il problema non credo che sia per voi diciamo o loro quali sono laureati il dramma sia di di andare fuori il dramma del sistema è che la nostra temporità non è il fatto se i nostri bravissimi diciamo concittadini e laureati vanno fuori il problema è che forse neanche pensato che il saldo fosse negativo ma oggi la sfida deve essere aperta il più ampio possibile e globale quindi concludo dicendo i tempi sono così oggi in Italia è possibile fare imprese in alto ci sono delle difficoltà le due caratteristiche devono partire sono l'idea e il tipo che hanno solo queste cose che hanno un attimo nello spese soprattutto sul tipo molto spesso accade che i timi sono sbilanciati in un senso e in un altro cosa vuol dire noi siamo partiti all'inizio che eravamo quasi tutti i tecnici e i miei ricercatori è un limite ossia nel timo è importante oltre che facciano squadra perché è fondamentale la tutti disciplinare perché avere un'idea e sapere realizzare non vuol dire che questa idea abbia mercato l'innovazione tecnologica per definizione non è l'innovazione non è inventare qualcosa che sia nuovo ma qualcosa che sia nuovo che vada nel mercato così come molte volte avere l'idea è un qualcosa che deve essere realizzato invece vogliono le capacità per poter realizzare perché molto spesso accade che c'è un'idea viene portata avanti e anche finanziata perché è un'idea ma se poi non si realizza la durata di un paio di finanziamenti se fa tutto bene poi l'impresa diciamo non può fare altro che diciamo avere un esito in falso per qualsiasi cosa noi anche abbiamo il nostro bambetto lì possiamo parlare e possiamo approfondire diciamo un po' di certo che in effetti ci sono tante cose negative però se si crede nelle cose in cui si va se si va verso l'innovazione anche in Italia oggi ci sono degli strumenti per poter ottenere dei risultati soddisfaci vi ringrazio adesso abbiamo a concludere un messaggio di speranza sul paese che è vero comunque se in Italia è uno dei terribili paesi che ricavano questa è alla fine uno può dire statistica è una delle prime potenze industriali quindi comunque se chi è nato chi è traspirato qui ha la possibilità di avere accesso a delle strutture che anche i paesi non ci sono e lo dice chi ha vissuto tanto all'estero tra volte vediamo per scontato a cose che su 180 86 paesi al mondo con 70 famiglie infatti la proporzione è come se tu in tasca è come se tu in tasca non è male quindi alla fine infatti in un paese comunque un po' in sai enorme un po' in sai di conoscenza un po' in sai di infrastrutture e noi molto spesso diamo le scontate e quindi diciamo ah non funziona sì in altri paesi non ce l'hanno neanche tutto però e non ce l'hanno anche un corpiente non l'avranno mai alcuni paesi perché viene veduto una visione di progresso che non è dietro e qua ce l'hanno quindi comunque un po' in un paese che le sue sconture è un potenziale che ce l'ha quindi devi solamente rilanciarle ed è un meno difficile di quello che è passare e comunque sono arrivati all'ultimo l'ultimo di spoglianza che ho disolato parlo di conoscenza 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 passiamo al genere ok allora si è alleggerito siamo ritornati nei tempi esatto allora praticamente adesso l'obiettivo io spero che tanti di voi prima di questa di questa opportunità abbiano avuto un'idea di uscire da qui dire voglio fare impresa perché comunque ripeto testare oppure puoi entrare in un'impresa più strutturata dove posso imparare a fare impresa e poi apprendi la vita che è anche molto importante per passare comunque passare dall'università il mondo del lavoro direttamente come imprenditore è molto forte se non si ha un background imprenditoriale o di ambiente quindi magari avere un'idea un'azienda rossa di settore e poi aprirsi per germazione come si dice di solito che avviene molto l'eroggetto è stato fatto così dove aziende che appunto è una grande impresa poi viene anche la terzista e il piccolo spedio comunque sarebbe bello avere delle domande delle carimenti per fare il presentatore piuttosto che ai professori con le loro se vuoi le fio domani se vuoi le fio le domande allora se avete domande veramente fate questo momento siamo qui per l'allon per cantarci quindi allora la mia per subito quella del mio percorso è stato prima di lavorare in un'azienda prima del record poi proprio poi aprire la mia prima azienda e come il intero è andata male e poi tornare a lavorare in un'azienda in Cina e poi aprirmi quella che adesso mi piace resta andando qui subito avere la possibilità a non vedere l'università solamente come dicono di scusi ma di sperimentazione di vita si ha provvedo anche dal professor Ferrante perché si avrete imprenditori te stessi perché comunque questi anni devono essere sfruttati per prestare varie possibilità andare all'estero per studiare lavorare con l'idea magari di tornare perché comunque quello è il vantaggio perché se vai fuori quando vediamo stavire in Italia e vediamo più lo tag che ha non pensare che tu puoi in Italia indipendentemente a fatto che tu sei italiano francese o acco di due paesi che stanno entrando in un'opportunità di un'operata hai le stesse difficoltà però quando hai una emozione da poi e la porti dentro una volta per più è quello che gli altri non hanno qua però con il grado comune quindi è quello che hanno loro più pazzo un po' come sarebbe lì quando è talmente che a casa serve di lingue per così e quello è il punto quindi avere un percorso con questo si va e non sparetarsi perché alla fine non ci succede niente delle bambali o amanti non è rimando niente un po' quando ci voglio un po' se funziona non è il dono non è nessuno per l'altisismo poi se quello senza quello ci riprovi e ci va è un'altra è un'altra è un'altra allora altre domande è una cosa è una cosa bellissima perché se un gradient c'è ancora più semplice lì pensiamoci in questa metti in questa metti il tuo progetto in struttura lo vuole farlo come le fate un video per scriverlo e tutto quanto tu mandi il video devi collegare una carta di credito e ha non una poste carta di credito carta di credito non necessariamente è testata a te però ci deve essere una carta di credito e perché così pagano i soldi una mia carta di credito e dopo di che loro semplicemente fanno il progetto lo metti se la persona mettono i soldi e superi il livello ti accreditano i soldi meno nel percento al mondo che sono circa l'8% del posto totale vantaggio è che non si pagano a tasso perché non è una vendita quindi non c'è l'unità e per cominciare ed è semplicissimo se a volte la gente dice ma come si fa? si dice basta che c'è il bandaggio che abbiamo e che basta come si va a fare questo il starter è ottimo per testare l'idea che la mia cosa rispetta in gioco che è un altro che è già attaccolato dei prodotti e che chissà ci sia il prodotto mentre dico dovrò finanziare lì quindi un po' ripresa questa poi a meno c'hai qui un'altra ora no quindi praticamente su Big Star devi mettere un risultato un obiettivo che si vede in quel caso di avere finanziato allora vai sotto dovresti però all'inizio metti un temp per provare quella per farne altro semmai però pensa se tu hai un'idea una serie su Big Star quindi lo puoi fare tramite di printer piuttosto che altri strumenti apporti sono degli attrappogli o finance.com che in quel momento sono in altri fatti del mondo che fanno quello che devi fare lo vedi su Big Star lo finanzi e hai fatto hai fatto l'impresa ecco l'impresa perché questa è la l'impresa se ti apri un negozio su eBay questa c'è l'impresa noi pensiamo cosa stabilimenti gente orari su partire se tu apri un negozio su eBay i po' su Amazon i po' su Amazon quella è non è niente di molto più facile adesso che il tempo è altro quindi molto più semplice quando ammessero la persona se io le ho vado se io le ho vado ci stanno ci stanno è meglio magari andare a reclutare l'amico di sempre in modo che in modo che non lo facciamo a me allora di solito io posso sapere la mia esperienza personale vedendo con l'amico e con l'amico si lavora bene però un po' come lavorare appunto con come e con la fidanzata c'è un problema di amici cioè a volte in qualunque azienda si è un prof possiamo fare la cosa siamo uguali però c'è adesso una persona tutta la difficoltà cosa fa con l'amico un gruppo di amici che tendono a scontrarsi no? perché ciò che si è un'amicizia può essere un'amicizia 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 che diceva prima io lo faccio con l'amicizia quindi sono andato a aiutare le persone in base all'unicolo anche l'icolo e l'esperienza che qualcuno dovrò per amicizia dobbiamo fare una cosa per amicizia quindi è stata fondamentale da quel punto di vista perché o loro avevano altri obiettivi rispetto ai miei o loro avevano altre comunque hanno un'idea di un'idea di un'idea 100% quella è una cosa un po' tantissima e quindi con la confidenza dell'amicizia e il rapporto stesso che tu hai con l'amico con cui non puoi dedicare perché tu non ci sei amico magari non puoi comprare le nostre e quindi ti trovi difficoltà dal tuo punto di vista la verità è che un salto l'ho fatto io perché la persona che abbiamo incontrato l'abbiamo scelta trappare ma non erano più io l'ho conosciuto in questo contesto l'ho valutato io come lui una volta con me a quel punto noi ci siamo incontrati abbiamo fatto il prezzo io personalmente in questo modo stiamo portando altri ingressi dal punto di vista ingegneristico perché vogliamo fare macchine grosse vogliamo realizzare stampanti per realizzare incremento per incremento per realizzare la personalizzazione dei automobili ma lì io non sto in base a cercare il mio amico ingegnere ma lo faccio lo dare in base agli schibbi di altre aziende di persone quello che stanno a fare lì in base a cercare la persona di altro l'amico va bene però deve essere bravo però non è l'amicizia tu non vai cercare l'amico perché è che amico ma perché è bravo che è competente e soprattutto c'è una valentinenza che è assolutamente perché poi l'amicizia alla fine è il lavoro si può chiamare start up o due anni per il lavoro è una cosa bellissima è una cosa bella può essere più tempo a lavoro che andare a dormire un giorno a dormire un giorno a dormire una cosa che ti piace che una vita è lì veramente e non ha senso sicuro se ancora la fine non stai in giro da un'azienda maziana intende però cominciare con qualcuno che abbia il tuo stesso sogno perché sennò risponde a domanda altre domande? come si reagisce a fare lì allora il discorso personalmente avendo lavorato in un'azienda straniera che era Procter non esiste c'è il tuo discorso impare perché è quello si fa cioè come come te appoggi prima cosa vedi che non è facile però devi capire se il problema è sbagliato l'idea o sbagliato l'esercizio perché sono due mondi diversi tu potresti aver sbagliato appunto come parlavo appunto quando si diceva io so che funziona ma il D non funziona quello è il fallimento perdonami può essere visto come un fallimento ma il fallimento cos'è? lo siamo fermati abbiamo messo dove stanno le loro aziende abbiamo utilizzato l'azienda c'è la volontà di andare avanti che è buona si può costruire e cosa abbiamo fatto di buono si può andare avanti si ok poi sono i problemi e si va avanti cioè il fallimento è se tu vuoi imparare a cambiare devi credere la stessa cosa che fare se è una cosa lentare rispetto a degli obiettivi che ti metti nel quale tu cambi e evolvi però qual è il fallimento? uno potrebbe dire pure il fallimento che tu domani adesso abbiamo tuttora dell'orio e poi ti hai raccorto con il quale non ti chiede la stella non ti chiede da quant'anni non ti chiede quello che fai e ti licenziano il fallimento e poi tu fai in qualità che è costato le opere le gamiche le gamiche le gamiche le gamiche le gamiche 40 non funzionano più guarda quello è il discorso cioè il fallimento non esiste quando tu hai l'idea che lo schema non c'è sia seguito e lo fa e quindi alla fine la cosa bella è che siamo un mondo se non funziona qui se lo vengono a Roma non funziona a Roma a Milano e poi c'è gente che aveva tre negozi ed è inutabile già pensa che non c'è perché comunque basta che ingrandisci il tuo metrato sembra un po' controcorrente quello che vogliamo dire però io quello che volevo sapere prima della tua esperienza cosa si prova cioè ho visto che hai lavorato comunque con grandi compagnie come te tu lavoravi lì comunque per alcuni può sembrare anche un punto d'arrivo tu un giorno hai detto mi voglio mettere in proprio cioè quindi come cioè comunque lo va a detenerare no no dicendo quello che mi è a casa che è successo all'inizio non lo so comunque lavorare per una grossa azienda è un banco quindi no allora io ti dico come esperienza è stato perché ho avuto la fortuna di cominciare a molto giocare a loro a me quindi alla fine è un percorso che comunque aveva la possibilità da giocare a sperimentare delle cose però aveva ancora la forza di dire che posso ancora cambiare no questo è il proprio che avevo 23 anni sono passata la 25 quindi al treno scusate quindi alla fine diceva ancora c'ho da provare no c'è gente che poi magari decide quando fattare un'esame ma purtroppo ne sbagli di su però il punto qual è alla fine è tu devi vedere che comunque sono un punto di più ma qual è il tuo punto d'arrivo è un'esame che mi piace un certo di una realità vorrebbe certo dico anche cose gentissime molto materialistiche che non sto più a dire perché poi sembra che piace la wolf è sempre che fitta e non me lo so non me lo so ma non mi fermate no potrà stare in propria non so che non la avrebbe totalmente molto di probabile allora ti trovo le sconsidurie si è che sta a fare di me si è che aspettare io obiettivo no che lo voglio fare e non ce la faccio no guarda senza prendere sempre la macchia però fallire per fallire io non ci trovo e quindi adesso c'è un'altra cosa che avrei perduto la propria multinazionale ti dà tanto ma ti sintematizza e ti fa paura no mi leggo esatto ma forse questo è la fine di vedere in prospettiva perché con questo chiudo tanti miei amici che sono rimasti ho lasciato propria nel 2010 e si collega a quando ho detto all'inizio che non c'era facebook che era nel 2004 è stato fatto e comunque è entrata grossa nel 2007 e praticamente ti pensa quando stavo nel propria non c'erano tutti questi strumenti e adesso tu come ti erano per fare una campagna che è per tutto il mondo ed è imparato stato perché a me poter fare quell'azienda e l'altra sta in manufatturiera perché grazie ai suoi libri gli stai non potrebbero complicare più quanti freghi e bottiglie di acqua e tutta una altra cosa che fa quindi tu praticamente lasci quello perché è come se fossi una grande azienda di ghiaccio diciamo l'esempio se tu fai ghiaccio hanno inventato il frigo si pensano se i primi cinque anni chiedati che fai farà bene ma poi un giorno in frigo io direi come il tema è molto più interessante io direi che un figlio quest'anno organizziamo un altro workshop molto più strutturato qui era soltanto un pitch stanno in un termine di cambiare le stanzate per rilasciare qualche idea faremo una cosa di molto più robusta e strutturata e può dare un respiro a chi veramente è interessato a tutti aspetti specifici grazie ringrazierei tutti quanti grazie